Periodo di turbolenze e grattacapi nel capoluogo Dauno per il partito Fratelli d'Italia. Dopo l'autosospensione del consigliere Bruno Longo, finito agli arresti domiciliari, poi revocati in merito all'operazione Nuvola d'Oro, giunge anche la spiacevole vicenda che coinvolge la consigliere Liliana Iadarola, la quale è citata nelle carte dell'inchiesta sull'arresto del bombarolo Antonio Rameta. A complicare la sua posizione sono numerose intercettazioni in auto che la vedono coinvolta insieme al compagno il pregiudicato Fabio Delicarri. Nella conversazione, parlando con il suo compagno, egli espone l'intenzione dell'assessore alla sicurezza di inserire tra le linee programmatiche l'installazione di videocamere di sorveglianza e ricevendo dallo stesso il consiglio a dire di no. La consigliera, dimessasi da presidente della commissione consigliare del Comune di Foggia, si è anche autosospesa nelle scorse ore dal partito Fratelli d'Italia. Liliana mi ha comunicato nella serata di ieri la sua volontà di autosospendersi dal partito. Aveva la consapevolezza che la sospensione cautelare sarebbe stata di 30 giorni. Lei mi ha rappresentato la volontà di autosospendersi dal partito e dal gruppo consigliare finché la commissione insediatasi al Comune di Foggia non abbia accertato la sua totale e completa estranetà. È stato un atto di grande responsabilità e di grande rispetto verso il partito, soprattutto in questo momento, considerando che quanto emerso da alcune testate giornalistiche sembra coinvolgerla direttamente con determinati episodi. Liliana, sentendosi totalmente estranea, ha ritenuto di ricorrere alla forma dell'autosospensione. Che ragionamenti sta facendo il partito in questo particolare momento delicato, legato anche alla vicenda dell'altro consigliere, Bruno Longo? Beh, i ragionamenti sono tanti. Ovviamente la prima riflessione è quella che oggi siamo un partito che va verso il 18% e quando si cresce così tanto è opportuno anche fermarsi un attimo e fare una serie di considerazioni, una serie di riflessioni. Abbiamo concluso il 31 di gennaio il tesseramento, ecco probabilmente bisogna dare continuità a quelle tessere attraverso un congresso. Grazie a tutti.